La notte di Halloween Ci siamo, è la notte di Halloween Al momento siamo in mezzo a un bosco che adesso vi faremo vedere dove è buio pesto Un sacco di animali notturni civette, forse lupi abbiamo un chilometro da fare per arrivare a questo cimitero che ci hanno segnalato Vogliamo solo parlare con voi E' veramente particolare questa notte per voi Quindi tornate su questa dimensione un'altra volta in questa notte Certo 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 Chiare? 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 Ragazzi ragazzi Chiare? Ragazzi ragazzi Ascolti ragazzi 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 calma ma era queste cose che avete sentito prima? no ma hai sentito questa voce adesso? no io non l'ho sentito, l'ho sentito shhh no no io l'ho sentito la voce io l'avevo direto bastardi si ho capito si è una cosa del genere esatto esatto bravo non sono sicura la voce del genere